Dylan Dog 427, la vita e il suo contrario, una storia lineare, classica, che stranamente mi è piaciuta. Wabalaba dardabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog, nella rubrica Boneri, nella rubrica Fumetti. Continuiamo a parlare della serie regolare di Dylan Dog, che questo mese vede sia alle sceneggiature che alle chine, ai disegni, Gigi Simeoni, quindi autore unico per questo fumetto mensile. La copertina invece, come sempre, dei Cestaro Brothers, che mi piace mostrare perché è centratissima rispetto proprio alla trama interna, è quasi una scena che c'è all'interno del fumetto. Diciamo che unisce due cose, ma è comunque una cosa che avviene all'interno del fumetto e mi piace tantissimo. Lo stesso Roberto Recchioni di recente ha parlato delle copertine dicendo che c'è stato un ritorno al classico con i Cestaro Brothers e quindi mentre la testata Old Boy avrà un taglio un po' più sperimentale dal punto di vista delle copertine, le copertine della serie regolare invece tornano ad avere questo taglio molto classico e devo dire che i Cestaro Brothers iniziano davvero a ricordare un po' una versione moderna di Stano o di Villa, delle copertine di Stano o delle copertine di Villa, senza arrivare allo stile praticamente pittorico che aveva Cavenago, anche perché in questo modo si bilancia un attimino il tutto, perché con Cavenago c'era quasi il rischio che la copertina fosse un quadro bellissimo, forse troppo bellissimo rispetto alla storia interna. Qua invece è, diciamo, contigua a tutto quello che c'è all'interno. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega di condividere il video con tutte le persone che amano l'indagatore dell'incubo e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e di questo video. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, soprattutto questo mese, perché martedì 12 aprile faremo una live a tema Dilan Dog, parleremo un po' del numero mensile inevitabilmente, e poi faremo una classifica dei migliori Dilan Dog tra quelli che abbiamo letto. Cominciamo col dire che per me questa storia è stata un po' un'esperienza mistica, perché finalmente, grazie anche al suggerimento di Roberto Recchioni, che è stato leggermente diverso rispetto al solito per quanto riguarda la musica, sono riuscito a leggere il fumetto con la musica in sottofondo, cosa che di solito non faccio per il semplice motivo che suggerisce delle canzoni. Invece qua, suggerendo una colonna sonora di un film, sono riuscito a tenermela in sottofondo e a tenerla in sottofondo per tutta la durata della lettura, cosa che non mi ha distratto né con la durata breve di alcune canzoni, né con il fatto che ci fossero delle parole che io comprendo e quindi che mi avrebbero distratto dalla lettura. La musica stessa mi ha portato in questo viaggio molto cupo, molto quasi di ambientazione vampiresca, come lo stesso Recchioni suggerisce, e la storia che non si può scindere, anche perché è stata frutto dello stesso autore, sia per le tavole che per la narrazione, la storia che non si può scindere tra disegni e narrazione, è classica, nel senso che è sia classica come storia, una storia che poteva stare tranquillamente nell'old boy, ma mi piace che sia finita anche nella storia regolare, poi vedremo alla fine perché, e è classica anche nel taglio, ci sono chiaramente, è una griglia quasi tipica, cioè una classica griglia 6 con qualche pagina un attimino più grande, ma nulla di particolare dal punto di vista delle, chiamiamole inquadrature. Per quanto riguarda invece quello che c'è all'interno delle tavole, io sono davvero soddisfatto di quello che ho visto, ho visto un graucio azzeccatissimo, mi piace proprio la gioia negli, guardate questo, questo primo piano di graucio, tipico proprio, mi ha fatto venire in mente proprio il vero graucio Marx, questa gioia negli occhi che si legge in graucio, non l'ho mai vista in altri, in altri numeri, è proprio disegnato benissimo, lo stesso Dylan Dogg, le sue espressioni sono disegnate molto bene, anche Block, le angolature, e quindi il fatto che inclini la testa in questo modo, mi sono piaciute un sacco, non è assolutamente un disegno semplice, ecco, sono disegni azzeccatissimi, e sono dei disegni davvero, come si può dire, impegnati, ecco, di questo sono molto molto felice. Di graucio, vorrei anche parlare a livello di narrazione, che è un po' il protagonista di questa storia, e mi piace che Simeoni non solo abbia fatto di graucio un assistente capace, un assistente che è lì davvero per aiutare, ma in questo caso è il vero e proprio protagonista, perché oltre a essere l'assistente di Dylan Dogg, e oltre a essere una macchia comica, di cui però i suoi giochi di parole non sono a caso, ma sono proprio finalizzati alla storia, perché proprio la sua passione per questi giochi di parole lo porta a frequentare un corso di scrittura creativa, che appunto gli permette di incontrare il personaggio femminile di questa storia, quindi c'è un personaggio femminile, ma non è la bella di turno che si fa Dylan, ma è la bella che potrebbe farsi graucio. Graucio però in un certo senso si mette anche, mano a mano che la storia va avanti, si mette anche un po' al centro del pericolo imminente, e quindi mi piace come Simeoni sia riuscito a tenerci in un certo senso incollati a questa storia, partendo da un caso che poteva non interessarci, perché appunto non c'è una cliente con cui empatizzare, è un cold case, è un caso freddo, a cui Dylan sta facendo dei collegamenti, perché si ricorda che ci sono stati degli avvenimenti simili in passato, e quindi potrebbe essere una cosa molto fredda di cui a noi non ci interessa, ma mano a mano che la storia va avanti, noi ci rendiamo conto che Graucio invece potrebbe davvero essere in pericolo a causa di questo cold case che ritorna periodicamente nella storia londinese. Mentre le altre libertà artistiche che Simeoni si prende, come lui stesso ammette, l'enormità delle coincidenze che ci sono all'interno di questa storia, le risolve semplicemente usando la metanarrativa, in un certo senso, cioè lui arriva a un certo punto della storia che dice sì, ok, ci sono tante coincidenze, sembra quasi l'opera di uno scrittore mediocre, anche autodenunciandosi, facendo dire a Block che questa storia sembra essere scritta da uno scrittore mediocre, quindi ci trovo anche della modestia in Simeoni, che però nel finale lo risolve con della metanarrativa, ovvero un personaggio all'interno di questa storia è lo scrittore mediocre, che in un certo senso ha tessuto un po' le trame di quello che abbiamo letto. Dato che ne parliamo spesso, parliamone anche questa volta, chiaramente una storia che presumo fosse scritta pre-meteora, perché vediamo un ispettore Block che ha un rapporto con Dylan che non è assolutamente da padre e figlio, tranne in una scena appunto dove sono proprio state cambiate giusto due balloon per retconnare un po' il tutto, però devo dire non è una cosa che pesa più di tanto, anzi, siamo quasi arrivati a un punto che ce ne sbattiamo le balle, cioè la prendiamo così com'è e va bene. Lo dico perché è chiaro che Block in questa storia non può essere il sovrintendente, perché appunto va a verificare un altro caso, quello della metropolitana, dove incontra un altro agente ed è chiaro che non ne è il suo superiore, è un collega, ma non può essere il collega di un altro sovrintendente, essendo il sovrintendente a scotranghiata. Quindi qua si capisce tantissimo che Block era ancora un ispettore, si capisce anche quando risponde al telefono a Dylan per la prima volta perché lo tratta come un amico, non può trattarlo come un figlio nel dialogo che c'è tra di loro. C'è giusto una scena più avanti dove lo chiama figliolo e dove Dylan dice se è il sovrintendente che parla o è il padre. E giusto questo mette un attimino a posto la continuity, però diciamo a parte il numero dove era pesante questa cosa che è stato quello che parlava degli angeli che si erano visti prima del soft reboot, e anche la trilogia di Manacerace, negli altri numeri questa cosa, seppur è presente, non è fastidiosissima. È evidente che avendo la possibilità di essere sia scrittore che disegnatore, Simeone ha comunicato benissimo con se stesso facendo trapelare ai personaggi tutte le emozioni che voleva trapelassero, ma lo si vede benissimo in qualunque primo piano, anche quando Graucio mangia una zuppa, si vede in modo perfetto lo sguardo che voleva dare il... mi stavo dicendo il regista, lo sguardo che voleva dare lo sceneggiatore a questa tavola. Abbiamo citazioni fantastiche alla Shining, dove Graucio fa lo scemo, e ora vorrei anche andare un attimino nello spoiler, quindi vi parlo un po' delle tavole finali, quindi se non avete ancora visto, se non avete ancora letto il fumetto, mi raccomando, fermatevi qua, vi lascio qualche secondo. Mi piace molto la risoluzione finale, dove per trovare la casa di quella che è chiaramente la colpevole, oltre ad essere la bella di turno e anche l'assassina di turno, era abbastanza evidente, però ci ha tenuti un po' sul filo del rasoio fino alla fine, perché poteva esserci un plot twist. Il plot twist è che non c'è un plot twist, è che quello che si presume succeda, cioè che la cattiva sia la donna, è davvero lei, ma poteva non essere lei fino alla fine. Mi piace che per scoprire quello che fondamentalmente è il covo di un vampiro interdimensionale, Dylan passi dal safarà e parli ancora con Hamlin, che è sempre più viscido, sempre più, come si dice, più uno sferato. Mi piace tantissimo questa tavola dell'ascensore dove Dylan viene quasi schiacciato. Sono anche curioso di capire se questo l'ha disegnato Simeoni o se si è fatto aiutare con qualche, come si dice, programma, nel senso che se lui l'ha disegnato normalmente poi l'ha schiacciato con un Photoshop o qualcosa. Sono molto curioso di questo. E mi piace anche che Graucio nel finale sia, anche lui sia metanarrativo, buchi un po' la quarta parete come a volte fa Graucio. Graucio è il nostro Deadpool e io lo adoro tantissimo. A un certo punto quando volano nel nulla Graucio stesso dice com'è tutto sto biancore, risparmiamo sugli inchiostri. Ecco, questo è un Graucio fantastico che vorrei davvero vedere anche nella serie TV. Parlando anche di serie TV io ci ho trovato anche una vaga somiglianza al Graucio di Luca Vecchi, quello di Vittima degli Eventi. Un Graucio abbastanza giovane che viene invecchiato solo leggermente dalla presenza dei baffi ma l'ho trovato appunto disegnato appunto mi è sembrato disegnato in alcune tavole sulle fattezze di Luca Vecchi. E questa cosa mi è piaciuta molto perché sia come carattere sia come aspetto mi ha ricordato molto il Graucio di quel film di quel fan movie molto bello quindi sono molto contento. Promosso assolutamente questo Dylan Dog nonostante non ci sia una grossa critica sociale che è quello che io cerco un po' sempre nella serie regolare di Dylan Dog ciò nonostante c'è comunque una leggera critica sociale nel finale quando sono all'ospedale Graucio dice ehi guarda per scrivere un libro c'è questa agenzia che me lo pubblicherebbe se io pago mille sterline o due mila sterline quello che è e Dylan Dog dice un editore serio paga l'autore non il contrario che poi è un po' la stessa critica che aveva fatto sempre Recchioni qualche giorno fa su un suo post in cui appunto si parla di queste case editrici che pubblicherebbero la qualunque facendosi pagare appunto dagli autori indipendentemente dalla qualità dell'opera tant'è che molti tant'è che un autore per vedere se se questi se queste case editrici leggessero i come si dice i libri proposti i romanzi proposti gli ha mandato il fu Mattia Pascal per vedere se se ne se se ne accorgevano e non se ne sono nemmeno accorti e quindi ecco questo è stato anche un piccolo monito un piccolo un piccolo segnale d'allarme per le persone che vogliono buttarsi nella nella scrittura ecco di stare molto attenti a queste frodi legalizzate e di non farsi abbindolare da una facile fama data da una pubblicazione pagata ma di passare per la classica gavetta perché è da lì che comunque innanzitutto si vedono i risultati e comunque è una gavetta che non finisce mai queste non sono parole mie le trovate sul post di Roberto Recchioni che magari vi metto qua sotto in descrizione se ve lo siete perso quindi mi piace che ci sia stato questo comunque questo riferimento che non dà nulla in più all'opera che mi è piaciuta in generale però c'è quel qualcosa in più quel valore aggiunto che anche se non ci fosse stato la storia sarebbe stata bella ma con quel valore aggiunto lì ecco ha un po' strizzato l'occhio a un'altra delle tante cose dei tanti errori ecco che ci sono nel mondo reale io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questa recensione come sempre vi aspetto anche sugli altri miei social come detto all'inizio del video io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti